Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Wesa Channel. Stamattina ho scoperto che ieri sera è iniziato Sanremo e l'ho scoperto per via dell'onda virale che ha investito tutti quanti sui social network, facendoci capire benissimo come non ci libereremo mai di questa Kermes Canora. Però dai, non tutto il male viene per nuocere, la canzone di cui parliamo oggi in realtà è molto bella, almeno a me è piaciuta tanto. Devo dire che però a proposito di Sanremo, piccolo aneddoto, l'ultima volta che ho seguito veramente tutte le puntate per bene di Sanremo, c'era in concorso la canzone di Max Gazzè, Una musica può fare. Ho idea che siano passati un po' di anni così a naso. In ogni caso, Daniele Silvestri con Rancore, ragazzi abbiamo trovato un accordo, so che tantissimi di voi sono dei fan di Rancore, io sono cresciuto con Daniele Silvestri, del quale devo dire che lo stimo davvero molto. Ha una bella cultura musicale che gli ha sempre consentito di essere molto vario per l'orecchio, perché tocca sempre tantissimi generi diversi, è uno di quei cantautori che quando fa una canzone è perché ti deve dire una cosa, e anche questo non è da sottovalutare, decisamente. In più dai, non avrà la voce di un usignolo, però è uno che come interpretazione, come è che si dice oggi, ti arriva, ti arriva sempre. Quindi lo apprezzo davvero tanto, mi ha fatto piacere scoprire questo featuring, occasione d'oro ovviamente per farci un video. Questa canzone, vi devo dire che l'ho letto sui social, sono andato su YouTube per ascoltarla, ho ascoltato prima il videoclip, quello sull'autobus, molto bello tra l'altro, secondo me, e poi mi sono andato a sentire la versione sul palco di Sanremo, e devo dire che è stata un'esperienza che ho preferito fare così, perché l'esibizione sul palco, ai banchi di scuola, che sono una didascalia tremenda, ma sono anche un po', ti rovinano un po' il gusto di capire di cosa parla la canzone. Per me, ascoltare prima il videoclip, io all'inizio, primo minuto, diciamo, della canzone, pensavo fosse una canzone sul carcere minorile, e poi ho capito che era una metafora per renderti l'idea del costo, potremmo definirlo il costo esistenziale che la disciplina scolastica ha per ciascuno di noi. E' stato bello scoprirlo così, piuttosto che avere la didascalia del banco di scuola, ho preferito. Comunque, a parte questo, adesso leggiamo il testo, che in realtà è molto semplice, non richiede particolari spiegazioni, però in ogni caso è abbastanza, come vi posso dire, ricco di immagini importanti. Devo dire che un paio, altra premessa, un paio di connessioni che mi sono subito partita in testa ascoltando questa canzone, sono la prima per i cinefili, Zero de Conduit de Jean Vigo, un film molto importante per la storia del cinema, Zero in condotta, recuperatelo nel caso. E poi mi è venuto in mente The Game di Baricco, invece, lettura recente, nel quale Baricco, non ne abbiamo parlato nell'apposito video perché non era il tema centrale, ma Baricco è molto, molto scettico nei confronti dell'istituzione scolastica, molto veementemente scettico, se vi passate questa bella parola. Leggiamo questo testo. Fui condannato ben prima di nascere, scusate, se iniziamo dall'inizio è meglio, Ho 16 anni ma è già da più di 10, è la scuola dell'obbligo, obbligo parola chiave, che vivo in un carcere, appunto, nessun reato commesso là fuori, immagine vagamente kafkiana, fui condannato ben prima di nascere, quindi vuol dire che è una storia e una condanna di tipo sistemico, non sta parlando di un protagonista in particolare, anche se poi ci saranno delle immagini secondo me più specifiche, ma è ovviamente qualcosa che coinvolge tutti quelli che ci sono passati, tutti. Costretto a rimanere seduto per ore, immobile, muto per ore, io che ero argento vivo, signore. Molto bello questo passaggio, molto bello perché dà l'idea proprio di un contrasto innaturale, questa è la parola chiave, che ero argento vivo e qui dentro si muore, l'argento vivo e il mercurio che non sta mai fermo, non so se da piccoli, a noi alle medie ci fecero passare una volta la boccetta con il mercurio per metterci un dito dentro, ripensandoci non so quanto fosse sano, ma insomma il mercurio non si ferma mai ed è l'estro l'energia dell'infanzia ovviamente quando inizia la scuola dell'obbligo e questo contrasto è tremendamente innaturale ed è qualcosa su cui raramente ci fermiamo a riflettere. Costretto a rimanere seduto per ore, immobile, muto per ore, io che ero argento vivo, signore. C'è un rimpianto, una nostalgia di una forza perduta, di una naturalità perduta. È un tema importante, è un tema che tocca tutti quanti, la disciplina che è quella sociale, oltre che quella scolastica. Questa prigione corregge e prepara una vita che non esiste più da almeno vent'anni. Corregge, fa ancora metafora comunque del carcere, del sistema correttivo e di riqualifica che il carcere dovrebbe essere. Corregge in realtà in questo senso, corregge l'estro dell'infanzia, lo irregimenta e prepara una vita e qui lui ti fa capire quanto sia vano il sistema scolastico odierno, perché non funziona più, perché non è al passo coi tempi, perché non ha niente a che vedere con quello che c'è là fuori, altro tema fondamentale di questa canzone. Prepara una vita che non esiste più da almeno vent'anni. Io la leggo così, vent'anni vanno oltre la vita del protagonista che ne ha sedici, quindi la vedo proprio come una questione di il mondo è talmente cambiato, l'economia è talmente cambiata, la società è talmente cambiata negli ultimi vent'anni che è un'istituzione arcaica in qualche modo. Non so se posso avere altri sensi questo vent'anni, nel caso correggetemi come sempre nei commenti. A volte penso di farla finita e a volte penso che dovrei vendicarmi. Qui ti vuole dare l'idea di una iperreazione, ma serve molto questa immagine per capire la violenza che ti suscita dentro, il fatto di essere costretto su quei banchi, il fatto di doverti disciplinare così tanto al di fuori della tua natura e così in contrasto con il mondo di fuori. Ti genera violenza, ti genera rabbia, una violenza che può essere sfogata su se stessi idealmente, l'idea di farla finita, o sugli altri, vendicarmi. Ma contro chi? Contro cosa? Contro il sistema, un nemico che ovviamente nessuno di noi ha a portata di mano. Però la sera mi rimandano a casa, lo sai, perché io possa ricongiungermi a tutti i miei cari. Qui ancora è l'immagine del carcere, della libertà vigilata, come si chiama, degli arresti domiciliari in realtà. Ricongiungermi a tutti i miei cari come se casa non fosse una gabbia anche lei e la famiglia non fossero i domiciliari, appunto. Questa è un'immagine molto importante perché la famiglia e le persone care non rappresentano una fuga dal sistema, ma sono innanzitutto coloro che ti ci hanno messo e coloro che desiderano che tu ci resti dentro. Il bambino viene mandato a scuola, qui chiaramente è un tempo pieno di quelli che fanno anche il pomeriggio, il bambino viene mandato a scuola perché il sistema economico in questo senso non ti consente di occupartene e quindi tu vuoi che vada lì perché non hai tempo per lui. La tragedia che in questo senso è davvero tale, ha tantissime sfaccettature che vengono rese molto bene, in più i genitori vogliono che tu vada bene a scuola, che tu abbia quella disciplina eccetera eccetera e quindi non finisce mai, non esci mai da quel senso di costrizione, men che meno a casa, come se casa non fosse una gabbia anche lei e la famiglia non fossero i domiciliari. Ho 16 anni ma già da più di 10 che vive in un carcere, nessun reato commesso là fuori, fui condannato ben prima di nascere e il tempo scorre di lato ma non lo guardo nemmeno e mi mantengo sedato per non sentire nessuno, tengo la musica al massimo e volo, che con la musica al massimo rimango solo. Questa è un'immagine di isolamento, un'immagine di rifiuto del ragazzo che non vuole saperne nulla degli altri, che soffre talmente di questa disciplina che probabilmente la sua condizione familiare non gli ha neanche giustificato come avrebbe dovuto per farglielo eventualmente capire meglio. E quindi si chiude, non comunica con il prossimo, ha dei problemi relazionali che sono dovuti a questo trauma del passaggio dall'argento vivo al banco di scuola, a questo cambio di realtà che gli viene imposta e che non gli viene suggerita, rispetto alla quale non viene persuaso, che è una cosa molto importante. Il tempo scorre di lato mi fa venire in mente, questo è un aneddoto personale, non so se intendesse lui qualcosa del genere, però io una volta ero in classe, mi ricordo alle medie, mi divertivo talmente tanto a seguire le lezioni, ero talmente tanto un bravo studente che guardavo fuori dalla finestra le nuvole che si muovevano, per dirvi come ero coinvolto. È un'immagine che me l'ha fatto richiamare, chiaramente il tempo scorre di lato e anche il tempo che perdi, è la vita che passa in un mondo là fuori così diverso e che rende così inadeguata l'istruzione scolastica, ovviamente è questa l'immagine, ma lui non se ne cura e si isola e rinuncia alla comunicazione, alza la musica al massimo, cuffie e tanti saluti. Rimango solo, una solitudine che finisce per essere, lo diceva Daniele Silvestri, vi vedevo un'intervista che ha fatto con rancore, finisce per essere qualcosa di cui poi da adulto senti il bisogno di parlare, perché è qualcosa che hai subito e che secondo me hai anche fatto molta fatica, ti ci è voluto molto tempo per capire che cosa è stato quel trauma, magari non pensavo neppure che lo fosse stato un trauma. E mi ripetono sempre che devo darmi da fare, perché alla fine si esce e non saprei dove andare. I genitori, il lavoro, devi entrare nel sistema, questo è il percorso previsto per irregimentarti nel sistema, un percorso che però è già inadeguato, perché alla fine si esce e non saprei dove andare, non c'è tanto lavoro là fuori che ti aspetta, soprattutto non sei stato preparato al mondo del lavoro, non sei stato preparato a quello che c'è dopo e quindi in ogni caso sarai solo e sperduto. Ma non capiscono un cazzo, no? Io non mi ci riconosco e non li voglio imitare, ovviamente è una forma di omologazione. Quello che dicevamo prima, qual è il messaggio vero che questa canzone a me comunica? Ve lo potrei riassumere in una frase. Non ce n'è abbastanza per tutti, non ce n'è per tutti. Avete presente il concetto darwiniano di competizione intraspecifica per l'accesso a risorse limitate. Non ce n'è per tutti. E qui viene tantissimo fuori. Hai una massa da omologare e da incasellare, ma della quale in realtà non ti potrai davvero occupare. È molto importante che la stragrande maggioranza di loro rinunci, perché se tutti rivendicassero libertà e destro non ce ne sarebbe mai per tutti, non ne potremo mai garantire per tutti. Per questo è quasi economico al sistema, ora sto facendo un po' il complottista, però il fatto che un percorso di emancipazione personale sia così difficile, così lungo, così traumatico, tutto ha un senso da questo punto di vista, ma è un banale concetto di risorse limitate. Qualunque tipo di risorse stiamo intendendo, che sia la soddisfazione personale, la reputazione, denaro, quello che volete. Non mi ci riconosco e non li voglio imitare, non voglio essere come gli altri. Avete preso un bambino che non stava mai fermo, l'avete messo da solo davanti a uno schermo. Questa è l'altra faccia della medaglia, sono due le cose di cui si parla qui. Si parla del sistema dell'istruzione e si parla di un altro sistema che viene utilizzato dai genitori che però effettivamente non hanno il tempo e le risorse spesso, per ragioni economiche, per dedicarsi ai figli come vorrebbero. Un altro sistema che utilizzano non è soltanto lo mando a scuola, li mando a scuola, ma è anche un davanti alla tv, cellulare, tablet. Ok, non ho tempo, energie, risorse per darti quella cura di cui avresti bisogno per poter seguire un percorso di emancipazione attraverso tutti gli ostacoli dell'omologazione. È drammatica e tragica anche la figura genitoriale, Daniele Silvestri lo spiegava bene, lui è da quei panni lì che sta parlando. Molto bella questa cosa, secondo me. E adesso vi domandate se sia normale, se il solo mondo che apprezzo è un mondo virtuale. Ovviamente l'isolamento, prima sono le cuffie, poi è stai davanti alla tv o stai fermo sul banco eccetera eccetera, il cellulare ovviamente, e alla fine finisci per avere soltanto un orizzonte di fantasie e anche di riscatto in modo tremendamente beffardo nel virtuale, nel mondo di desideri assolutamente già di omologazione. Pensate a Instagram, non so perché mi viene assolutamente in mente Instagram, che cosa ti fa sognare Instagram, no? Un mondo virtuale ovviamente potrebbero anche essere i videogame, naturalmente. Io che ero argento vivo, dottore, dottore, chi lo sa, forse, in cura da qualcuno. Anzi, senz'altro, io così agitato, così sbagliato, recuperato un vecchio video di questo canale che si chiama Fa caldo ma la vita urge, qualcosa del genere. Parlavamo del libro di Goleman sull'attenzione, no? E sul disturbo da calo dell'attenzione. Adesso non mi ricordo come viene chiamato così sedato negli Stati Uniti, eh? Io così agitato, così sbagliato, con così poca attenzione. Mi avete curato? Appunto, no? Ma non era distrazione, non era un disturbo, era l'infanzia che non conosce quelle barriere e che le rifiuta come naturali a se stessa. La perdita degli occhi del bambino, eh? E adesso mi resta solo il rancore, qui so che molti di voi si sono bagnati perché ovviamente sta per entrare rancore nella canzone. Ho 16 anni ma già da più di 16, no? Leggiamolo perché non è la stessa cosa. Ho 16 anni ma è già da più di 10 che ho smesso di credere che ci sia ancora qualcosa là fuori. È una perdita di speranze per se stessi, per il futuro, eccetera, eccetera. E voi lasciatemi perdere. Così facile da spiegare come si nuota nel mare, ma è una bugia, non si può imparare a attraversare quel che sarò. Qui è, questo se non sbaglio è ritornello, che ha cantato da Agnelli nel videoclip. Non c'è preparazione per il mondo là fuori, soprattutto non così, non con queste premesse. Non mi state preparando a nulla, mi state semplicemente irregimentando, ma dopo sarò ancora più inadeguato. Non riuscirete a insegnarmi, non è così che si impara come si nuota in mare, ovviamente rappresentano le difficoltà, la vastità della vita, bla bla bla. È una bugia, non si può imparare a attraversare quel che sarò. Non esiste una vera preparazione. Nella testa girano pensieri che io non spengo, non è uno schermo, non interagiscono se li tocchi, il touchscreen. E sono pensieri che non ti lasciano, no? Che sono insopprimibili nella tasca. Un apparecchio specchio di questo inferno. Ovviamente all'inizio, per quelli della mia generazione, era solo il televisore in casa. Oggi ce l'abbiamo sempre con noi. Lo schermo, quell'altrove infernale però giustamente. Dove viaggio, paradossale, non è un viaggio, viaggio rimanendo immobile, dove vivo è vita, dove mangio con gli occhi. Molto bella questa immagine. Dicevamo prima, davvero a me viene in mente Instagram. Quando devo pensare a un social, poi ognuno lo usa come vuole, ma pensate come è usato mediamente Instagram, è davvero dove tu mangi con gli occhi mondi che non saranno mai tuoi, desideri che non potrai davvero realizzare e che sono comunque di omologazione. Sono fiori e scarabocchi in un quaderno, uno zaino come la palla al piede, un'aula come cella, suonerà come un richiamo paterno il mio nome dentro l'appello e come una voce materna la campanella suonerà. Le figure genitoriali sono rimosse. Gli schermi, l'istituzione scolastica, il genitore che ti prende e ti molla lì, ma perché a sua volta lavora e lavora duro. Tu lo perdi come figura di riferimento e quindi paradossalmente, dicere ancora, sarà il nome nell'appello detto dal professore o la campanella saranno madre, mamma e papà, no? Che sono stati perduti per questa solitudine, no? In mezzo a tutti gli altri, naturalmente. È un mondo nato dall'arte, per questo artificiale. In fondo è un mondo virtuoso, forse per questo virtuale. Fermiamoci qui. È un mondo nato dall'arte nel senso di artificiale, può essere sicuramente un riferimento a quello che ti insegnano a scuola, ma soprattutto al fatto che è un modello studiato a tavolino, che non ha delle vere basi empiriche per prepararti a quello che c'è là fuori. In fondo è un mondo virtuoso, forse per questo virtuale, cioè quello che ti viene raccontato è un modello che non si presta, è troppo campato in aria, anche in modo virtuoso, quello che ti viene insegnato rispetto a ciò di cui avresti e avrai bisogno. È quindi virtuale, no? Non è una specie a renderlo speciale. Questa immagine è un gioco di parole veramente forte. Non basta essere umani per essere umani, potremmo dire così. Non c'è davvero... non basta partecipare della sopravvivenza della specie per darsi un senso. Potremmo anche espanderlo in questo senso qui. Non basta essere le formiche, no? Nel sistema del formicaio. Non basta questo a renderlo speciale. Almeno per la sensibilità del ragazzo, naturalmente. E dicono che tanto è un movimento chimico, un fatto mentale. Ci si rifà ancora il discorso degli psicofarmaci, che evidentemente sullo sfondo vi si è accennato, no? E quindi può essere curato. Perché tu prendi il cervello, no? E ci lavori, no? Bypassando quella che invece sarebbe la vera cura per il cervello, per noi stessi. Ovvero l'ascolto, la comprensione, vivere secondo natura, no? Io che non mentivo, che ringraziavo ad ogni mio respiro, ad ogni bivio, ad ogni brivido della natura. Io che ero argento vivo. Qui ovviamente è più il lato rancore. Lo diceva bene Daniele Silvestri. loro, sono vent'anni fra i due, appartengono a due generazioni diverse. Qui secondo me emerge più il carattere dell'autore rancore che dell'autore di Daniele Silvestri. Argento vivo è molto diverso. L'argento vivo di cui parla questo secondo personaggio rispetto al primo. Secondo me emerge abbastanza bene. Ad ogni bivio ringraziavo, no? Ad ogni mio respiro, ad ogni bivio, ad ogni bivio della natura. Io che ero argento vivo in questo mondo vampiro. Mercurio liquido, se leggi la nomenclatura. Che sarebbe ovviamente. L'argento vivo. Ho 16 anni, ma già da più di 10 vivo in carcere. Vivo in un carcere. E c'è questo equivoco nella scrittura. E fingono ci sia una cura, un farmaco ma su misura. E parlano, 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 parlano. Mentre mio padre mi spiega perché è importante studiare. Quello che dicevamo prima. Qua in realtà abbiamo già detto quello che la canzone dice. Mentre mia madre annega nelle sue stesse parole. Sono genitori che non hanno la comprensione, non hanno tempo per comprendere, non hanno probabilmente gli strumenti per comprendere. E hanno troppo comodo e troppo facile questo sistema per non instradarci il figlio. Non capiscono un cazzo, eccetera. E allora ti dico un trucco per comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto. Come un bambino distratto davvero. Da questo punto di vista, il bambino distratto con il deficit dell'attenzione, ecco qual era il termine giusto, in realtà è un trucco. È un trucco per non essere presi dal sistema. Insomma, alla fine si era ancora che Silvestri poi in qualche modo saranno artisti nella loro vita. Quindi riusciranno, si pensa, stereotipicamente ad emanciparsi dall'omologazione. E quindi tu prendi il mondo come fossi un bambino distratto. Non prestargli troppa attenzione. In questo senso non prenderlo troppo sul serio. Non omologarti. Davvero è normale che sia più facile spegnere che cercare un contatto. Anche qui il solito discorso del digitale. Io che ero argento vivo, signore. Che rimpianto, che amarezza a quell'immagine infantile, vero? Io così agitato, così sbagliato, il normale e il patologico Canghilem, leggetelo, è un bel libro, da continuare a pagare in un modo esemplare qualcosa che non ricordo di avere mai fatto. Perché merito questo? Ho 16 anni, 16 anni vivo in un carcere, se c'è un reato commesso là fuori. È stato quello di nascere, ovviamente nascere all'interno, di un sistema formicaio che ovviamente è una mente estrosa, una mente diversa, spesso sedata e bollata, relegata a deficit di attenzione. In realtà, come al solito, il matto, tra virgolette, in questa immagine è l'ipersensibile. Qua fa molto anche Terry Gilliam. È colui che vede, magari ancora prima di averne gli strumenti, ma già per sensibilità infantile, vede le crepe di un sistema che non è per lui, bella per chi ci si è in qualche modo liberato negli anni dopo, ma attraverso quello ci siamo passati tutti. Veramente una bellissima canzone, una botta tremenda, secondo me molto più solidale nei confronti della figura genitoriale di quello che sembra, proprio perché viene in gran parte, vedi Daniele Silvestri da un genitore, molto forte, ci stava questo featuring, secondo me fa parte del messaggio. Ditemi nei commenti che cosa ne pensate, noi ci vediamo a un prossimo video. Grazie.